Buongiorno, buona domenica, benvenuti al nostro Tg del mattino che apriamo con il maltempo abbondanti nevicate sul Molise, un po' ovunque forti, fortissime raffiche di vento anche nella zona costiera, dunque la neve è caduta abbondante dal pomeriggio di ieri e per gran parte della notte oltre 30 centimetri di neve in diverse zone anche nel capologo di regione, queste immagini che vedete sono state girate proprio questa mattina, mezzi in azione, qui siamo al centro di Campobasso, nelle zone del centro di Campobasso, come vedete si circola però bisogna fare molta attenzione, le temperature sono basse, ghiaccio e soprattutto c'è tanta neve, vedete anche la gente che spala per liberare le macchine che sono sommerse dalla neve, come dicevamo 20-30 centimetri di neve anche nelle zone intorno a Campobasso e in azione i mezzi sulle principali arterie dunque sia sulla Bifernina ma anche nella zona di Sernia, quindi sulla Trignina, la zona di Castel Petroso, abbondanti le nevicate ad alta quota a Campitello Matese e anche a Capracotta, oltre mezzo metro, 70 centimetri e anche di più in altri casi. Sono stati diversi gli automobilisti soccorsi durante la notte nella serata di ieri che erano rimasti in panne con le auto nella zona della tangenziale di Campobasso ma non solo, anche nella strada verso Vinchiaturo ma anche nelle zone interne, quindi verso Campolieto, verso Campolieto, verso Ferrazzano. Sono state soccorse portate a casa dai Vigili del Fuoco ma anche dalle forze di polizia che comunque sono sul posto, alcuni di fuori regione sono stati accompagnati anche in albergo. Poi c'è anche da dire che le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi sulla strada e dunque anche in questo caso i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire e ci sono stati problemi ad esempio a Campobasso nella zona di via delle Frasche dove sono all'opera già i tecnici per liberare appunto la strada dagli alberi e dalle fronde che sono cadute per il forte vento ma anche per il peso della neve. Maggiori dettagli e gli aggiornamenti nel corso del telegiornale delle 14 intanto se si hanno dei video o delle foto di neve da qualsiasi parte del Molise è possibile inviarli a Telemolise al numero 346 47 41 972 il numero whatsapp ripeto 346 47 41 972 o in mail con we transfer o le foto o video a messainonda chiocciolatelemolise.com messainonda chiocciolatelemolise.com Inquinamento a Venafro dopo la discussione in aula c'è attesa per la decisione dei giudici del Tar sul ricorso presentato da WWF e Mamme per la salute contro il piano regionale ambientale Sentiamo Enzo Di Gaetano Inquinamento del Venafrano entro pochi giorni il Tar Molise dovrebbe far conoscere la sua sentenza sul ricorso contro il piano ambientale regionale presentato dal comitato Mamme per la salute di Venafro e dal WWF Molise. Tanta la speranza di Mamme WWF che il Priamo così viene chiamato il piano ambientale del Molise venga bocciato dai giudici del Tar perché come spiega l'avvocato Pina Negro che ha curato la presentazione del ricorso il piano non pone alcun divieto all'installazione e all'attivazione di nuovi impianti che mettano a rischio la salute Abbiamo evidenziato al collegio come la situazione della qualità dell'aria sia notevolmente peggiorata rispetto ai dati considerati nello stesso priamo e come questo dimostri l'assoluto inefficacia di questo piano. In verità il piano avrebbe dovuto contenere un'analisi particolareggiata delle emissioni sia per quantità che per qualità, per sorgenti e avrebbe dovuto individuare delle misure concrete. Addirittura il piano si proponeva l'obiettivo di raggiungere il risanamento entro il 2020, una scadenza che è stata completamente obliterata. Abbiamo anche rappresentato come il piano così com'è alla fine è autorizzatorio di nuovi impianti cioè non ponendo divieti ma solo limiti consente a qualunque altro imprenditore di proporre nuovi impianti, nuove installazioni che potrebbero determinare un ulteriore peggioramento della situazione. Il collegio si è riservato, noi ci auguriamo l'accoglimento del ricorso. Il bollettino dell'ASREM adesso con i dati Covid in Molise sono 278 i nuovi positivi registrati su 2.573 tamponi refertati tra antigenici e molecolari, tasso di positività al 10,8%, sono solo 9 i guariti. Il numero più alto di nuovi contagi riguarda Campobasso con 58 casi, 47 quelli di Termoli, 20 di Sernia, 14 di Larino e 10 di Agnone, numeri inferiori negli altri comuni interessati. Due, i ricoveri nelle ultime ore, uno in anziano fragile, uno in malattie infettive, reparto da cui è stato dimesso però anche un paziente. I ricoverati con Covid al Cardarelli al momento sono 26 di cui 3 in terapia intensiva, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 6.444. Il Comune di Campobasso cofinanzia il progetto di Emporio Solidale della Caritas Diocesana. Gli Empori Solidali rappresentano una forma avanzata di aiuto per le famiglie che vivono situazioni di temporane povertà. Sentiamo. Sono tante le famiglie e le persone in difficoltà anche in Molise e l'Aggiunta Comunale di Campobasso ha aderito con una delibera al progetto di costituzione di un Emporio Solidale promosso dalla Caritas Diocesana di Campobasso e Boiano, cofinanziando l'iniziativa con 5.000 euro per acquistare beni, alimentari e prodotti per la pulizia, per l'assessore alle politiche sociali. Luca Praetano, l'obiettivo è costruire una rete di sostegni che possa permettere alle persone e alle famiglie in difficoltà di emanciparsi e vivere in modo autosufficiente attraverso un processo di crescita. In concreto, gli Empori realizzano piattaforme logistiche per la raccolta, lo stoccaggio e la distribuzione di generi alimentari freschi e secchi a sostegno delle attività socioassistenziali sul territorio, con particolare riguardo alle distribuzioni alimentari a chi è in difficoltà economica e disagio sociale. Gli Empori solidari rappresentano una forma avanzata di aiuto per chi vive situazioni di temporanea povertà, detto Praetano, costituendo un'evoluzione delle tradizionali ancora molto diffuse e indispensabili distribuzioni di borse spese a buoni spesa. Il progetto di Emporio Solidale è uno strumento innovativo di welfare comunitario che non vuole essere mero assistenzialismo. Il modello di Emporio Solidale proposto nel progetto della Caritas Diocesana prevede, oltre alla spesa gratuita, un valore aggiunto dal momento che le persone possono essere accompagnate nell'individuazione e raggiungimento di piccoli obiettivi di miglioramento della propria condizione di vita, attraverso ad esempio un percorso di orientamento al lavoro obbligatorio per chi è disoccupato, corsi di formazione professionale, consulenze personalizzate per la gestione del bilancio familiare, sostegno alla genitorialità. Una domenica speciale con le immagini delle più belle manifestazioni raccolte in viaggio in Molise negli ultimi anni in tutta la regione. Un repertorio di maschere e colori sarà in onda su Tele Molise 2, sia sul canale 12 che in diretta su Facebook, oggi a partire dalle 9, poi ancora alle 13 e 30 e poi dalle 17 e 50. E tutto termina qui nel nostro Tg del mattino, adesso la rassegna stampa. Con Gianfrancesco Iacaruso vediamo come titola il giornale del Molise.it, Covid 278, nuovi positivi e solo 9 guariti. Poi in Molise neve e gelo, anche a Campobasso sul Capologo, temperature impicchiata ovunque, qualche disagio alla circolazione. Poi crisi della filiera del latte, Cavaliere scrive al ministro Patuanelli, il settore zootecnico a rischio, Covid. Il Molise resta in zona gialla ancora per due settimane, anche se i dati sono in miglioramento. Poi la fortissime raffiche di vento si contano numerosi danni, ad esempio a Trivento, un grosso albero di velto ha interrotto la circolazione nella Fondovalle. Poi c'è il piano neve a Campobasso e l'ordine dei giornalisti del Molise ha una sede di proprietà, acquistato una sede dopo tanti anni. Poi analisi, recupero e valorizzazione del santuario di Santa Maria di Canneto a Rocca Vivara, la tesi di laurea in ingegneria di Simona Vasile. Poi viabilitari ha aperto il viadotto lo svincolo per Pesco Lanciano e Termoli, la cronaca, entra in un bar per rubare alcolici e soldi, fermato e arrestato un ragazzo di 18 anni. E ci sono poi le altre notizie, guerra in Ucraina, l'appello dell'arcivesco Bregantini e i fedeli insieme per la pace e il comune di Campobasso cofinanzia il progetto di emporio solidale della Caritas Diocesana. Ci sono poi tutte le altre notizie sul giornaledelmolise.it. Vediamo adesso come titola primo piano Molise, il quotidiano del Molise, Molise alto e centrale nella morsa del freddo, previsioni rispettate, in poche ore la neve ha raggiunto diversi centimetri, particolarmente colpiti Campobasso e l'Interland, disagi e automobilisti in panne, segnalati interventi dei vigili del fuoco, circolazione in tilt sulla strada che collega Triventola a Trignina, una tromba d'aria fa volare gli alberi. Poi il bollettino Covid, due ricoveri e un dimesso, 278 contagi e solo nove guariti. Termoli Post 2022-2024, faccia a faccia conferenza dei sindaci Toma e poi buone notizie, giornalisti l'ordine mette su casa dopo anni in affitto una sede di proprietà. Guerra, quel silenzio che fa rumore è il punto di Luca Colella. Poi Agoradem, incentivi per promuovere lo smart working nelle aree interne, piace la proposta di legge di Micaela Fanelli. Isernia, il nuovo ospedale infiamma il dibattito, Castratario e Di Giacomo, non siamo contro, ma vogliamo capire. Renafro, inquinamento, il CM non fa sconti, sembra la pianura padana, inceneritore, le mamme bocciano le api. Poi, per quanto riguarda lo sport, lupi salvati dalla neve, Liguori a segno sul rigore per il momentaneo pari, si recupera il 30. La partita con la Turris è stata sospesa al 45esimo sul 2-1 per i Campani. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Agnone colpo a Venafro e Primato in attesa del Termoli. Basket sfida interna contro il Ragusa per la Magnolia. Sabatelli vuole la vittoria. Per quanto riguarda invece Coppa Italia, l'Isernia trionfa grazie ai gol di Negro e Panico. Campomarino, K.O., ma a testa alta. Vediamo adesso le prime pagine dei quotidiani nazionali. Partiamo con il Corriere della Sera, attacco totale a Kiev. È il titolo in virgolettato, la guerra in Europa, Putin lancia l'offensiva, raid aerei nella notte, dalle capitali europee, missili e lanciarazzi all'Ucraina. Poi ci sono diversi approfondimenti, le libertà della forza di Panebianco, le finanze come arma e poi noi largine ai russi, la resistenza di Andrea Nicastro. Lo zar è l'errore che già fece l'URSS, dice Paul Kennedy, e poi ormai la mia terra è l'hangar di Mosca. È una delle testimonianze. I bambini e il futuro segnato dalla paura, dunque tutti gli approfondimenti sul Corriere della Sera che riguardano la guerra in Ucraina. Vediamo adesso come titola invece la Repubblica. Anche qui l'Europa arma l'Ucraina è il titolo. Vedete questa immagine molto drammatica. Scatta il blocco su Swift per colpire le banche di Mosca. Cingolani preallarme sul gas. Francia, Germania e Italia seguono gli Stati Uniti e inviano aiuti militari alle forze di Kiev che stanno frenando l'avanzata dei russi. Zelensky esorta la resistenza. Il Cremlino risponde alle difficoltà potenziando l'offensiva. Si combatte nel centro della capitale. Biden, le sanzioni sono l'alternativa alla terza guerra mondiale. C'è l'editoriale di Molinari, le democrazie unite contro Putin. Poi il reportage nelle trincee di Odessa, cerchiata dal nemico e dalle piazze d'Italia. Un grido per la pace. Diverse le manifestazioni. Mattarella e le periferie dimenticate. Visita a Colviale. Poi ci sono tutte le altre notizie. Vediamo adesso come titola Libero. Il prezzo della libertà. A chi fanno male le sanzioni? L'Europa annuncia punizioni dure ma continua a comprare gas. L'Italia è già in preallarme energetico. Scontro Salvini-Draghi sul blocco dei pagamenti con Mosca. La UEFA non rinuncia ai soldi di Gazprom. Però vietiamo i siti porno ai russi, scrive Alessandro Sallusti. Kiev resiste. Putin non ha tempo e chiama Italia gole islamici. Poi la Cina ne approfitta e manda le navi a Taiwan. Manovra i militari a largo dell'isola. Delirio ideologico globale, la chiesa unica realista. Finché c'è fede c'è speranza, scrive Antonio Socci. Poi pacifisti rossi in piazza contro la Nato. Fausto Carioti parla di compagni confusi. Poi la Meloni negli Stati Uniti. Solo la destra difende i valori dell'Occidente. Da Libero passiamo a vedere come titola la stampa di Torino. A Kiev finisce l'innocenza. C'è questa foto con i bambini. Pioggia di bombe sulla capitale ucraina. Unione Europea G7 accelerano sulle sanzioni economiche. Inviano armi e soldati. Nessuna pietà per gli invasori. Li fermeremo con le Molotov. Sono i virgolettati di due approfondimenti. Poi ci sono tutte le altre notizie, i commenti. C'è una storia mia. Bimba Girasole è nata nella metro in questo periodo di guerra. E poi le piazze di tutto il mondo tornano a riempirsi di pacifisti. Passiamo adesso a vedere la prima pagina del tempo. Lampi abbraccia Putin. Posizione shock dell'Associazione Partigiani. Per loro la Russia bombarda legittimamente l'Ucraina. Si sono sentiti minacciati. La colpa sarebbe della Nato che si vuole allargare a est. e incitano gli Stati Uniti a mollare dai nostalgici di Mosca neanche una lacrima per le vittime delle bombe. È l'articolo di Francesco Storace. Poi ancora a scuola ci mancavano solo i gabinetti gender. Scrive ancora il tempo. E caro Gualtieri, gli evasori se li cerchi li trovi. Solo nel comparto turistico su 33 mila bed and breakfast. Oltre 20 mila risultano irregolari. Poi parla il figlio di Gabriele Cagliari. Tangentopoli, un golpe. Quei PM calpestarono i diritti di molti imputati. Dal tempo alla prima pagina del manifesto. Sotto assedio, uno dei titoli in evidenza. Mosca lancia l'offensiva a tutto campo da più fronti. Chi resiste nei rifugi trincee nelle strade. Più aiuti anche ai militari dei paesi europei. Cresce l'onda dei civili in fuga. Il Papa chiama Zelensky. La Russia minaccia dure contro sanzioni. Ma altre proteste contestano la scelta di Putin. Arrestati in migliaia. Poi combattimenti sul corpo delle popolazioni. E ancora ecco dove sono i pacifisti. Decine di manifestazioni in tutta Italia. Landini a Roma, mai con la guerra. Dal manifesto adesso passiamo al Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano titola così. L'Europa invia armi ma non molla sul gas. Assalto finale russo a Kiev che ottiene aiuti militari. Guerra in Ucraina meglio tardi che mai. Artiglieri e missili al paese che resiste. I giornalisti portati via dalla capitale. L'ONU paralizzata da Russia e Cina. Ondata di profughi. E poi la guerra dei due Vladimir Putin. Lo spione Zelensky. Il comico degli approfondimenti. Poi pace le piazze piene. Riccardi persi anni. E aeroporti banche e vini russi. Fra noi. Vediamo adesso come titola il sole 24 ore. Putin dà l'ordine offensiva totale dell'Europa. Rifornisce Kiev di armi. Guerra in Ucraina. Gli ucraini non cedono. Oggi consiglio. E gli esteri. L'Unione Europea su nuove sanzioni. Roma sia al blocco di Swift. Berlino deve essere mirato. Italia preallarme sul gas. Biden sanzioni. Unica strada. Altrimenti terza guerra mondiale. Queste sono parole fortissime. E poi ancora. Le borse hanno già perduto 1800 miliardi in due settimane. Diversificare per ridurre i rischi e sfruttare le opportunità. E la Cina rimane il paese amico. Ma l'intesa non è incondizionata. Così il sole 24 ore. Vediamo adesso il mattino di Napoli. Pioggia di bombe su Kiev. Anche qui dunque in evidenza. La guerra in Ucraina. Con la capitale che resiste a Putin. Poi assalto ai ministeri. Biden. L'alternativa alle sanzioni. È la terza guerra mondiale. C'è poi questa immagine di un edificio residenziale a Kiev. Letteralmente squarciato da un missile lanciato da postazioni russe. L'ambasciata spostata in un luogo più sicuro. 100 italiani rifugiati. E ci sono poi i racconti della guerra. Dal mattino passiamo a vedere il secolo d'Italia. Meloni ai conservatori degli Stati Uniti orgogliosi delle nostre identità. Poi la Turchia chiude il mar nero ai russi. Erdogan mediatore. Russia fuori dallo Swift. L'idea di Draghi non piace a Salvini. E poi CGA. Il super bonus è come il reddito di cittadinanza. Vediamo adesso come titola la verità. Occhio al fuoco amico sull'Italia. Dall'invasione dell'Ucraina al pericolo di un conflitto fuori controllo. Biden evoca la terza guerra mondiale. Molti stati, tra cui la Germania, forniscono armi a Kiev. Pure noi muoviamo le truppe. La tensione si allarga ai mari. Bloccate navi russe nella manica. Possibile chiusura del bosforo. La Turchia è nella Nato. Eventuali frizioni avrebbero conseguenze esplosive. Il nostro paese rischia più di altri da un possibile allargarsi dello scontro. Poi governo in allarme. Sul gas siamo già in condizioni di emergenza. Il vice di Figliuolo. Green Pass inutile. Perfino Rasi, consulente del generale, si arrende. Dunque si parla di Covid. Il lascia passare era utile per convincere i reinitenti. Ormai non serve a molto. Peccato che intanto resti in vigore. Altri dati negativi sui booster agli under 40. E adesso vediamo come titola la gazzetta sportiva. Juve forza 7. Vlaovic è un ciclone. Vetta ha 7 punti. Apre Khin, pari Empoli. Poi si scatena Dusan con una doppietta. Mercoledì ritorna a Firenze da re. Allegri si nasconde. Il titolo non è per noi ieri. Dunque la Juventus ha vinto ad Empoli. 3 a 2. La signora è quella pazza idea scudetto. E poi guerra in Ucraina. Polonia e Svezia con la Russia. Non giochiamo. E Abramovic lascia il Chelsea. Un altro dei titoli. Poi c'è immobile tra il Napoli e l'aggancio. Stasera in casa Lazio appunto il match. E poi ancora in alto vediamo. Pioli chiede di più a tutti pure a Leao. E cerca il vero che sì. Inzaghi deve subito ritrovare Lautaro. E arriva Gosens. Sacchi possono risalire al top. Vi spiego come è l'intervista. E dunque il riferimento è alla vetta della classifica. In particolare all'Inter. Infatti martedì c'è Milan-Inter di Coppa Italia. Con la Gazzetta Sportiva termina la nostra rassegna stampa. Il prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14 con il telegiornale. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Buona domenica a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.